Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di mister Marco Zaffaroni. Siamo all'antivigilia della partita Ellas-Verona-Salernitana, terza giornata del girone di ritorno. Cominciamo pure con le consuete due domande a testa con Davide Cailotto, Telearena. Grazie. Ciao mister, buongiorno. È ovviamente una gara importantissima questa, tra l'altro a maggior ragione dopo i tre risultati utili consecutivi. Insomma, ci si aspetta tanto dal Verona. Ti chiedo come si fa a sgonfiarla un attimino dal punto di vista della pressione, no? Perché lo dicevi anche nei giorni scorsi, è importante non caricarle troppo le partite. Sì, questa è un po' la chiave, nel senso che sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, ma come lo sono le altre all'interno del nostro percorso, che è un percorso particolare e quindi è una gara sicuramente importante. Importante perché giochiamo contro una squadra comunque forte, una squadra che la partita che secondo me non doveva sbagliare, che era quella con il Lecce, non l'ha sbagliata e ha vinto una gara importantissima. Ha dei giocatori di grande qualità nel reparto offensivo, un po' in tutti i riparti. Quindi è una squadra molto insidiosa, è una partita che andrà affrontata con grandissima attenzione, con grande concentrazione. Soprattutto quello che abbiamo sempre detto che ha contraddistinto queste nostre partite, l'atteggiamento, che è quello di non mollare dal primo al novantacinquesimo. Chiaramente tutti questi ingredienti nella partita di lunedì sera li dovremo mettere perché sarà una partita che richiederà tutta questa grande energia. E quindi questo è un po' l'obiettivo che ci siamo prefissati. Una domanda te la faccio su Djuric. Come sta lui? Che settimana ha passato? Se sarà della partita? E se eventualmente non sarà della partita? Ti chiedo se hai in mente di cambiare modo di attaccare, come hai fatto con Lasagna, oppure se punterai su Gaik. Grazie. Con Milan ho fatto una settimana nella quale si è allenato inizialmente a parte, poi si è aggregato alla squadra. Adesso il programma è che le ultime valutazioni le faremo domani insieme allo staff medico, insieme al ragazzo, soprattutto decideremo. Quindi adesso ci prendiamo ancora un giorno per capire se potrà essere o meno della partita, oppure tra i convocabili, oppure no. No, ecco. Quindi ci siamo presi tutto il tempo necessario e quindi le valutazioni finali le faremo domani. Questo è un po' quello come abbiamo organizzato la settimana nei suoi confronti. Alberto Fabri, Hellas Live. Ciao mister, buon pomeriggio, ben trovato. E ritrovi invece un giocatore che fino ad ora tu non avevi avuto a disposizione come Faraoni, che ha fatto buona parte della settimana a quel gruppo, quindi questo è sicuramente un segnale negativo. E ti chiedo invece di Kevin Lasagna, un giocatore che dal punto di vista dell'impegno non gli si può certo dire nulla. Insomma, Kevin ha dimostrato che quando è in campo, per quelle che sono le sue possibilità, da sempre il massimo. E ti chiedo comunque, il ragazzo sta attraversando questo momento, perché insomma per un attaccante immagino che non trovare la via del gol con una certa continuità possa essere anche un peso per lui. Sì, per quanto riguarda Faraoni ha svolto, come avevamo detto, tutta la settimana insieme al gruppo, quindi sicuramente tra i convocabili. È logico che è un ragazzo che è reduce da un periodo lungo, ha avuto un infortunio abbastanza lungo, però ha ripreso molto bene, soprattutto ha rispettato tutti i tempi e quindi questa settimana si è allenato con regolarità e quindi sicuramente sarà tra i convocabili. Per quanto riguarda Kevin, è un ragazzo che, come ho detto, da un punto di vista del lavoro, dell'impegno, di come approccia gli allenamenti, sicuramente non gli si può dire nulla, quindi lui deve continuare a lavorare così, non deve, come ogni attaccante ci sono dei periodi che le cose chiudi gli occhi e tiri e fai gol, ci sono dei periodi in cui magari questo non avviene, però chiaramente la capacità e la maturità la stabilisci quando riesci, come sempre, a vivere con grande equilibrio questi periodi, sia senza esaltazioni o senza depressioni. Ripeto, il ragazzo sta lavorando bene, quindi è un ragazzo sul quale noi puntiamo assolutamente. Si dice che a volte il miglior attacco è la difesa, ora nei numeri del tuo Verona 2023 è un Verona che dal punto di vista difensivo ha lavorato molto bene, che ovviamente è un pregio per quel che concerne il reparto arretrato, ma come tu mi insegni è tutta la componente della squadra che vuol dire che sta lavorando molto bene, anche perché numeri appunto alla mano, solo il Napoli ha subito di meno in questo avvio di campionato. E ti chiedo appunto quanto è importante anche essere riusciti, facendo ovviamente gli scongiuri del caso in vista di lui, di essere riusciti a trovare anche una quadratura, nonostante tu abbia anche cambiato degli interpreti, perché mi riferisco piuttosto che Ceccherini fuori l'ultima partita con Coppola a cui gli hai dato spazio. E ancora una volta ci sarà un grandissimo pubblico, si parla già di oltre 20.000 spettatori per spingere appunto verso una partita non decisiva, ma sicuramente molto molto importante. Grazie. Fanno queste domande prima della partita sul discorso sempre molto pericoloso. No, però a parte gli scherzi, stiamo parlando di equilibrio, di equilibrio di squadra che piano piano bisogna raggiungere. Chiaramente, come hai detto tu, non è un discorso che riguarda i difensori, ma è un discorso collettivo che parte assolutamente dagli attaccanti, che soprattutto per il modo che abbiamo noi di giocare, ognuno veramente deve lavorare sia quando abbiamo la palla, ma anche quando la palla non ce l'abbiamo ci sono dei compiti ben precisi che in questo momento sono svolti bene, insieme, da tutti, ma soprattutto con convinzione, perché poi è quella che fa la differenza. E quindi abbiamo ancora, secondo me, dei margini di miglioramento, sia da un punto di vista difensivo e soprattutto anche da un punto di vista della fase di possesso palla, dove chiaramente abbiamo ampi margini di miglioramento e chiaramente ci stiamo lavorando e dobbiamo cercare di migliorare entrambe le fasi, anche quella fase lì, perché, ripeto, è una squadra che sta facendo delle cose bene, però le può fare ancora molto meglio e quindi non ci dobbiamo assolutamente contentare. Chiaramente per la partita di lunedì ci aspettiamo un grande pubblico, come c'è stato nonostante, ripeto, il lunedì anche l'ultima volta. Non c'è bisogno di dire nulla ai tifosi in questo caso, perché, come ho detto, anche dopo la gara ci sono veramente, soprattutto dei momenti della partita, dove veramente ti spingono proprio. È chiaro che per fare questo ci deve essere una prestazione della squadra che non deve mancare, da un punto di vista, come abbiamo sempre detto, dei comportamenti e degli atteggiamenti e certamente, soprattutto nella gara di lunedì, questa cosa non la dobbiamo sbagliare. Tommaso Badia, Calcioellas. Buonasera, mister. Abbiamo già parlato di Faraone, volevo chiederti un po' la situazione degli altri infortunati, in primis Davidovic, che mi pare di capire comunque che sia sulla via del ritorno, comunque convocabile, veloce, insomma i soliti noti. Sì, Miguel sta perseguendo il periodo di cure, perché, ripeto, sta rispettando comunque i tempi riguardo all'infortunio muscolare che ha avuto. Pavel sicuramente sarà tra i convocabili, perché questa settimana si è allenato con regolarità. Abbiamo avuto un problema con Sulemana, che dopo la gara ha avvertito un problema muscolare, che quindi penso che domani non riesca a essere tra i convocabili. Poi per il resto sono tutti a disposizione. La situazione degli infortunati è questa. Poi volevo chiederti un pochettino di due singoli che abbiamo avuto modo di apprezzare dal primo minuto, ecco con la Lazio, preferisco a Duda e a Ngonz, chiaramente. Volevo chiederti se Duda è un po' l'uomo d'ordine, magari, che ti mancava, visto anche un po' gli infortuni di Illic, gli infortuni di Veloso, che hai avuto nella tua prima parte dell'esperienza qui. E se Ngonz è invece un tipo di giocatore che sulla tre quarti ti mancava, anche perché mi sembra un giocatore, forse uno dei pochi, che tira anche tanto da fuori, che secondo me è una cosa che forse ci è un po' mancata anche nella prima parte di stagione. Sì, per quanto riguarda Duda è un ragazzo, come ho detto, che ha caratteristiche sicuramente diverse da Tames e dagli altri centrocampisti. Parliamo di un giocatore che ha qualità tecnica e quindi ha capacità, soprattutto in certi momenti della partita, di dare dei tempi di gioco, di non forzare le giocate quando magari c'è bisogno di tenere palla in quel frangente. E quindi è un giocatore che da questo punto di vista in questo momento sicuramente si compensa bene con le caratteristiche degli altri. È arrivato pronto da un punto di vista fisico, perché comunque aveva già giocato quest'anno, quindi non c'è stato bisogno di rimetterlo a posto da un punto di vista fisico. E quindi, ripeto, è un giocatore che ci sarà sicuramente molto utile, proprio per le caratteristiche che ha. Cyril è un giocatore mancino, che lavora sulla tre quarti, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri giocatori, quindi in alcune partite c'è la possibilità anche di scelta in rapporto alle caratteristiche anche degli avversari, al tipo di gara e al momento della partita che andremo ad affrontare. Ha sicuramente, come hai detto tu, anche una qualità importante, perché calcia molto bene in porta, soprattutto col sinistro. E quindi in certi momenti della partita sicuramente è una soluzione che può essere molto importante, quindi speriamo che la sfrutti. Gaudio Pedalino, RCS. Ciao mister, ben trovato. Hai già detto di Milan, di Juric. Juric, l'hai detto tu nelle passate giornate, è un giocatore quasi unico, nel senso che il suo lavoro che fa in campo non se ne vedono tanti. Ecco, se non fosse disponibile, pensi di modificare la tipologia di gioco che eravamo abituati al lungo lancio spizzata di Milan perché anche Kevin, che si mette veramente l'anima, ha un tipo di gioco e caratteristiche diverse. Sì, sicuramente le caratteristiche di Milan sono uniche, perché la capacità che ha di gestire un certo tipo di palloni ce l'ha solo lui questa cosa, soprattutto traiettorie aeree. Lui ha questa grande capacità di riuscire a gestirle, a riuscire soprattutto a indirizzarle, perché sai, quando ti arriva spesso una pallonata ci metti la testa, la spizzi un attimo, però lui è molto bravo a fare le giocate anche su questo tipo di palle. Quindi è chiaro che nel momento in cui non c'è Milan delle soluzioni diverse bisogna trovarle perché sarebbe sbagliato ovviamente fare le stesse giocate con caratteristiche diverse. Quindi sicuramente con altri giocatori occorre trovare delle altre soluzioni. Chiaramente ci stiamo provando a vedere delle soluzioni diverse perché, ripeto, le caratteristiche di Milan sono uniche e quindi solo con lui si possono fare un certo tipo di giocate. Kevin ha questa caratteristica che talvolta l'impressione è che si è servito con quell'attimo di ritardo e perciò si spreca fiato nel scattare e gli arriva la palla in ritardo. Ecco, forse una tempistica migliore sarebbe da sfruttarlo ancora al meglio. Sicuramente sfruttare, come dicevo, le caratteristiche dei calciatori è fondamentale. Quindi è logico che con Kevin è un po' quello che abbiamo provato a fare anche l'ultima partita. Nel momento, per esempio, ci sono state almeno tre o quattro occasioni dove abbiamo recuperato palla con Tames o con Duda che abbiamo cercato subito la verticalizzazione e almeno in un paio di occasioni non siamo riusciti proprio per un errore di poco ma il concetto è un po' quello lì. Chiaramente sfruttare Kevin significa lavorare sulla profondità, su questo tipo di passaggi per sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche di velocità e quindi è logico che la ricerca va in questo. Come hai detto, poi vanno trovati soprattutto i tempi perché i tempi sono determinanti e quindi su questo sicuramente stiamo lavorando.